frate e ciao sorella mazza come vuole il tempo veloce allora praticamente io oggi sono quattro giorni che sto a casa poco di brutto non sono uscito manco per fare una spesa per niente quattro giorni dentro casa raffica e due giorni a dormire praticamente mi sono svegliato dalla sera prima mi sono svegliato alle due il giorno a volte pranzo a volte in un pranzo proprio vado al bagno mi rimetto a letto e dormo fino alle sette no fino alle sette no fino alle sei fino alle cinque e mezza e niente qua tocca resiste mi sa fa più sto elettronizzato porco sdinci porca buttana ma che fa mo sto aspettare stasera il telegiornale per sentire i notizie su sto caso di sto coronavirus se se non nasse a fa un culo ma annaggia la puttana vediamo fa ma guardiamo qua la stronza di carota io ho messo due pellet quelli vitaminici no non si può mangiare si è abituata all'escaviva sta stronza io ho messo non si può mangiare due giorni gliel'ho preso e gliel'ho buttato oggi l'ho lasciato lì dopo mi sono messo a sette vicino a lei a vedere no perché cosa che c'è che che se lei non si può mangiare se lei non si può mangiare il pellet va finì sotto sotto l'acqua e mi inquina l'acqua perché poi quello diventa se diventa putrefatto e anche l'acqua dopo fa schifo no sia dei colore che sia come purezza dell'acqua adesso sono stato là a vedere se si mangiava insomma alla fine si è mangiato proprio perché ha visto che io le scaviva diciamo a camola dalla farina al verme non ne lo davo no ha visto così sto collo porco d'incio è strano è troppo largo ha una cifra largo mannaggia la puttana è un bel maglione questo un bel maglione tipo peruviano per un po' che cazzo non so un amico mio mi aveva detto che grazie era sto maglione però non lo so io è bello però c'ha sto collo che è troppo largo mannaggia la puttana era più stretto vedi tipo che era tipo così no vabbè mi sa così è un po' troppo un po' così che ne so è sarebbe stato meglio invece qua ci devi mettere forza una camicia sotto perché è troppo largo troppo lo metto qua dietro ho detto legato qua dietro niente ieri non ho fatto video non ho fatto niente perché ho dormito poi ho acceso a televisione a guardarsi queste notizie sul coronavirus queste cose una palla perché qua non se ne esce non se ne esce porca puttana cosa che c'è che c'ho paura che se quando scende il picco che la gente vede che che praticamente non si sa più ammalà nessuno non si sa ammalà più nessuno non escono parecchi dall'ospedale ci sono molti meno morti a gente deficiente subito dopo uscirà uscirà dalle case uscirà se non si metterà più mascherina mascherina non si metterà più quanti praticamente se fanno così e subito come sentimo una buona notizia boh riuscimo subito la malattia riviene un'altra volta il contagio avviene un'altra volta non è che finisce lì perciò noi quando finisce questa pratica del che non è oddio mi sono trippato il cervello che non possiamo uscire questa cosa che non possiamo uscire non dobbiamo portare mascherine i guanti una volta che queste cose qua non le dobbiamo più fa' dobbiamo rimanere ugualmente a casa è uscire solo una persona a fare la spesa ma questo ti dico per un altro par di mesi che ti posso dire fino a che vediamo che le acque sono pulite perché siamo usciti tranquilli tipo in giappone ma parecchia gente esce e stas pure senza mascherina ho visto o in cina di cina a giappone vabbè ce frega un cazzo l'importante è che avete capito che esce sta senza senza protezioni escono alcuni altri c'hanno le protezioni ho visto su internet altri stanno con le protezioni qualcuno sta senza protezione senza niente però hanno riaperto i locali hanno aperto qualche bar ha riaperto però non dico che se riapre qualche bar tutti tutti ai bar devo andare se 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 riapre in cinema tutti al cinema se la discoteca tutti in discoteca no devo aspettare un po di tempo che si ripulisce l'aria che si ripulisce tutto capito perché si deve ripulire altrimenti ricadiamo nella stessa trappola cioè un'altra volta ci ricontagiamo un'altra volta perché magari uno è rimasto un po con una mezza focolaio uno ci si avvicina gli attacca quello capito come per cui tocca aspettare altro tempo dopo dopo che diciamo che se siamo guariti diciamola così dopo che si siamo guariti dice ma aspettiamo altro tempo ti dico che magari che cazzo ne so cinque da aspettare cinque mesi ma almeno un mese per vedere come vanno le cose sempre sentendo la televisione che ci dà informazioni che tante volte sono pure tutte canamerate cazzate e raccontano stronzate uno dice una cosa uno ne dice un'altra cioè si capisce in cazza alla fine però cercamo di essere di andare dietro le persone più diciamo più colte no più più colte su sto su sta cosa qui niente sto collo è così lasciamo così che gli potremo fare diciamo così ecco andiamo dietro a queste persone di cultura di cultura su questo settore però come professori di università professori che stanno in prima linea all'ospedale alle sale intensive sta gente qua dovremmo sentire o altri magari su internet che girano e dicono ma una marea delle cazzate capito come ecco perché quelli dell'internet non ne sanno tanto sentite i professori delle sale intensive quelli dovete ascoltare e il presidente vuoi quando parla sperando che dice cazzate dice tutta la verità che non ce lo illude magari e poi invece vabbè lasciamo sta vi saluto ciao frate ciao sore ciao un abbraccio belli ah ciao pare mi sono scordato ciao pare a pare a pare